Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di Mazzara Egizio Allora, noi stiamo andando a Pollena per vedere il villaggio egizio Questo è il mio amico Ciro Ciao Emanuela Emanuela Josefin Sara Coretta E Pona Allora Ashoè In questo primissimo video non vi potrò fare vedere i particolari del villaggio Le mie maestre non me lo consentono, però parleremo di molte cose Per prendere esempio, ho visto i video di Doctor Vendetta Andate a vedere il canale, perché è stupendo il canale È eccezionale, parleremo un po' delle sue cose Quindi ragazzi, il nostro primissimo video si conclude qui Bella ragazzi